In questo video parleremo della scelta di tipo di posto e delle preferenze che il docente potrà scegliere per fare la domanda di trasferimento per la scuola secondaria di secondo grado. Andiamo a vedere come si sceglie la tipologia di posto e come si scegliono le preferenze. Andiamo su inserisci, inseriamo appunto, entriamo nella pagina dove possiamo compilare le sezioni della domanda e tra le vere sezioni che abbiamo anche già visto, tipo anzianità del servizio, esigenze di famiglia, titoli generali e precedenze, ci sarà proprio la scelta di tipo di posto. Il docente potrà scegliere fra due tipologie di posto, qui al punto 36 potrà scegliere il posto normale oppure il posto di sostegno solo e solo se il docente è specializzato sul sostegno. Se il docente ha la specializzazione sul sostegno potrà anche scegliere la tipologia di posto sostegno. Chiaramente se è titolare di sostegno dovrà rispondere no alla domanda se il docente è titolare sul posto di sostegno ed è se è soggetto al vincolo quinquennale, perché per poter richiedere il posto normale il docente deve essere svincolato. Dunque se risponde che non è soggetto al vincolo quinquennale e dunque risponde no, potrà tranquillamente fare la domanda per il posto normale e scegliere se dare precedenza al posto normale o al posto sostegno. Se si mette uno sul posto normale si dà la precedenza al trasferimento sul posto normale, se si mette due al posto di sostegno in subordine alla disponibilità dei posti normali la macchina andrà a cercare i posti di sostegno. Una volta fatta la scelta della tipologia del posto, il docente può tranquillamente andare a scegliere le preferenze. Le preferenze da inserire al sistema sono un massimo di 15. Potrebbero anche essere 15 province tutte diverse. Dunque si potrebbero aggiungere le province, ma si potrebbe aggiungere anche un codice puntuale di una scuola, oppure il codice sintetico del comune, oppure il codice sintetico del distretto. Ricordiamo che aggiungere una scuola significa, se soddisfatti in tale scuola, rimanere vincolati per tre anni. Come si fa ad aggiungere una scuola? Immaginiamo che il docente vuole trasferirsi su una scuola della provincia di Cosenza nella città di Cosenza. Allora deve scegliere la regione, per esempio la Calabria, come nell'esempio, la provincia di Cosenza e il comune di Cosenza. Una volta scelto questo può selezionare le scuole di tale provincia, per esempio potrebbe scegliere il liceo scientifico Fermi di Cosenza, che verrà subito inserito a sistema. Ecco, in questa scuola il sistema darà prima priorità ai posti normali, perché nella scelta di tipo di posto si era scelto come precedenza il posto normale e in subordine il posto di sostegno. Dunque, se il docente verrà soddisfatto sul posto normale, il sistema si blocca e il trasferimento è dato in questa scuola sul posto normale. Se non ci fosse la disponibilità, in subordine il sistema andrebbe a guardare che cosa succede per il posto di sostegno, se c'è la disponibilità di un posto di sostegno. Si può aggiungere, come dicevo, anche per esempio il comune, sempre riferito alla città, per esempio, di Cosenza. Si sceglie la provincia, poi si selezionano i comuni e si va a prendere il comune di Cosenza. Cosa fa il sistema in questo caso? Il sistema prima guarda, secondo il bollettino ufficiale dei trasferimenti, delle cattedre del comune di Cosenza, guarderà che cosa? I posti normali in verticale, cioè che scorrerà tutte le scuole di Cosenza, secondo l'ordine in cui sono messe nel bollettino ufficiale, e vedrà se può essere soddisfatto in tutte le scuole del comune di Cosenza, il docente può avere il trasferimento su un posto normale. Se non dovesse esserci il trasferimento sul posto normale, perché in tutte le scuole della città di Cosenza non ci sono disponibilità di posti normali per il trasferimento, allora in subordine guarderà, nello stesso modo come ha fatto per i posti normali, se c'è disponibilità per i posti di sostegno. Stessa cosa potrebbe accadere se il docente scegliesse l'intera provincia di Cosenza, cioè andasse a scegliere l'intera provincia di Cosenza, il sistema andrebbe, secondo l'ordine in cui sono messe le scuole nel bollettino della provincia, andrà a vedere prima i posti normali. Se soddisfatto si fermerebbe, altrimenti andrebbe a scorrere con lo stesso ordine del bollettino anche per i posti di sostegno. Chiaramente le preferenze possono essere 15, non necessariamente devono essere della stessa provincia, possono essere scuoli di più province oppure comuni di più province o anche di più regioni, province di tutta Italia, fino a un massimo di 15. Speriamo che questo video sia stato utile ai nostri lettori, seguitici ancora sul nostro sito www.tecchinerascuola.it, sul nostro canale YouTube, faremo altri video sulla mobilità, e un saluto a tutti i nostri lettori.